Grande partecipazione al concerto La Pace fra i Popoli, tenutosi nel santuario del Santissimo Rosario di Avellino, la sera dell'Epifania, promosso dall'Associazione di Promozione Sociale Carlo Gesualdo, preseduta da Edgardo Pesiri, in collaborazione con Avellino Letteraria e Sinestesie. Un evento da forte significato, riflettere sul valore della pace nel mondo, tormentato da guerre, attraverso il suggestivo repertorio di musiche di Mascagni, Bach, Puccini, Vivaldi, Mozart, che sotto la direzione artistica di Claudio Ciampa, direttore d'orchestra di fama internazionale, ha visto esibirsi la compagine musicale composta dai violini di Vittorio Fusco, Sofia di Somma, dalla viola di Francesco Venga, dal violoncello di Vincenzo di Somma, dal pianoforte di Maria Scala e dalla voce del soprano annunziata da Alessio. Una serata emozionante in un giorno di festa cristiana, voluto fortemente per contribuire alla consapevolezza che ciascuno è portatore di pace e amore in un periodo storico segnato dal progressivo accrescersi delle disuguaglianze ed è stato un invito dell'Associazione alla Comunità Erpina a ricercare la bellezza della spiritualità attraverso le melodie della musica classica.